amici di chiasso tv buongiorno oggi abbiamo un ospite d'eccezione sabrina pinedoli parlamentare del parlamento europeo di bruxelles ma soprattutto grande sostenitrice della causa di julian assange ecco sabrina grazie intanto per aver accettato di fare il collegamento e di parlarci di julian assange del tuo impegno e vorremmo ricordare prima di tutto che la questione la vicenda di julian assange non è limitata al solo regno unito e alla sola unione europea ma riguarda tutti quanti i paesi non solo europei ma nord americani e possibilmente anche l'intero mondo dell'informazione e il nostro mondo di cittadini ecco sabrina magari spiegalo tu con le tue parole perché ti sei impegnata e perché questa vicenda è così importante per tutti allora intanto grazie per per queste interviste io credo che sia molto importante parlare del caso di julian assange perché il caso di julian assange non riguarda solo il parlamento europeo giustamente non riguarda solo l'italia riguarda tutti i cittadini del mondo per una semplice ragione perché julian assange ha permesso a noi di conoscere la verità su quello che e sono stati crimini di guerra in iraq in afghanistan ma anche per esempio i cablogrammi che sono stati scambiati dal dagli ambasciatori del degli stati uniti con i vari paesi e quindi io credo che sia estremamente importante per conoscere la verità in più c'è un'altra un'altra cosa molto importante cioè la libertà di stampa cioè quello che viene messo a rischio nel caso assange non è solo julian assange in sé lui è un simbolo un simbolo della libertà di stampa della libertà di espressione noi spesso condanniamo paesi dittatoriali perché imprigionano giornalisti perché uccidono giornalisti li perseguitano però a livello occidentale non è possibile non è accettabile che una persona come julian assange sia in carcere da quasi cinque anni e prima sia stato rinchiuso appunto nell'ambasciata dell'equador solo ed esclusivamente perché ci ha raccontato a noi la verità a noi la verità